ciao ragazzi marco gasco music shop italia i nuovi orari e stili del negozio lunedì chiusi dal martedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno dalle 16 alle 19 il sabato mattina dalle 9 30 alle 12 30 sabato pomeriggio chiusi tanto siete tutti al mare quindi se avete bisogno di me vi telefonate se no andate sul nostro e commerce ciao a tutti nuovi orari e stili del music show baci 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 baci